Io sono di Rocinante, al terzo anno sto quasi per laureare. Infermieri, tre infermieri. Adesso pensionata. Infermiera. Sono un coordinatore infermieristico, chirurgia toracico, ospedale San Camillo Forlanini. Per ora infermiera disoccupata. Infermiera. Sono studente di infermieristica. Io sono infermiera professionale. Sono infermiera coordinatore. Infermiera, infermiera professionale. Sono una studentessa infermiera e sono al secondo anno e insomma abbastanza convinta della mia scelta.